Driede è un laboratorio estetico. La sua ricerca ha dato forma a un catalogo che propone prodotti eclettici, gioiosi, senza tempo, stravaganti. Colorato, archetipo, gioioso. La libreria Zigzag di Konstantin Gricic che presentiamo quest'anno, se fosse un libro, sarebbe come tu mi vuoi di Pirandello perché può cambiare il colore e l'anima a seconda di chi la sceglie. Il divano Elisa di Enzo Mari, se fosse un suono sarebbe un suono armonico, un abbraccio, voglia di tenerezza. Se il nostro archipelago mirro fosse un drink, sarebbe un martini, perché è clean, crisp e caldo. Se vuoi una cosa che renda la tua casa un luogo piacevole dove proponi cose che vorresti regalare o ricevere il regalo, comprare questo prodotto Driade, perché tutti i prodotti Driade hanno un'innata vocazione alla gioia, mi ripeto, ma è la vera essenza, e all'essere stravaganti ed eclettici. Quindi questo la renderà diversa. Grazie a tutti.